Si è costituito in Toscana il tavolo regionale della rete della protezione e dell'inclusione sociale che rappresenta l'articolazione sul territorio della rete nazionale creata per contrastare esclusione e povertà. La firma del protocollo costitutivo è avvenuta a Firenze tra Regione, Anci Toscana, Società della Salute, Conferenza dei Sindaci, Zone di Stretto, Sindacati, Tavolo Regionale Alleanza contro la Povertà e Caritas con un obiettivo preciso. Per fare un po' la cabina di regia su come queste misure si applicheranno e sulle linee di indirizzo da dare alle amministrazioni locali che saranno poi quelle che effettueranno la presa in carico delle persone. In Toscana il 3,8% delle famiglie vive in condizioni di povertà assoluta, il doppio rispetto al 2008. L'obiettivo è quello di unire il sostegno economico alla presa in carico delle persone nel percorso di uscita dalla povertà, iniziata con il reddito di inclusione e da proseguire anche nell'ambito del nuovo reddito di cittadinanza. Per quel 3,8% di toscani che vivono in una situazione di povertà, noi ci proviamo ad attrezzare con strumenti come questi per dare le risposte che servono a chi ha bisogno in un momento di difficoltà. L'obiettivo è quello di tirarli fuori dal momento di difficoltà. Per ridurre le cause dell'impoverimento è sostenere le persone nell'uscita dalla marginalità sociale.